Buongiorno a tutti da Fabrizio, bentornati come al solito qui sul canale e torniamo a parlare di pizza per principianti da parte di un principiante. Ovviamente questo qui non è che sia un corso perché io non sono in grado di insegnare niente a nessuno, vi racconto la mia esperienza di pochettino più di un anno diciamo di panificazione, pizzificazione per così dire. Avevo già fatto un video che vi lascio linkato qui sopra in cui spiegavo un pochettino le differenze tra i vari forni, sia questi due che sono più per la napoletana che anche che cosa si può fare con il forno di casa, queste cose così, sempre restando appunto a livello un pochettino di principianti, di chi sta iniziando e chi appunto vuole cominciare a capire qualche cosina di più del mondo dell'arte bianca. In questo video vorrei invece iniziare a parlare di impasti. Gli impasti sono un mondo gigantesco quindi non possiamo esaurire tutto l'argomento sicuramente in un video solo. cominciamo a fare una panoramica, capire quali sono i termini, capire quali sono magari qualche differenza, che cosa si possiamo fare in quanto principianti e dove magari possiamo spingerci con l'attrezzatura che abbiamo in casa e anche con le farine magari che possiamo comprare e che tipo di manualità ci serve per fare quale tipo di prodotto. Ecco, iniziamo ovviamente con il parlare di farine. Ecco qui ho la mia fantastica farina Caputo Bloom, bellissima, mi piace molto, però la cosa che vi voglio dire in questo video è che non vi serve per forza andare a cercare la farina particolare da pizza. Può essere anche un pochettino complicato trovare queste farine qua, può essere. Io vi dico la verità, ho sempre fatto fino a pochissimo tempo fa qualsiasi preparazione con la farina della Lidl, marca Lidl. Semplicemente la cosa importante che dovete capire è guardare sull'etichetta il numero di grammi di proteine che ha la farina. Allora, innanzitutto stiamo parlando in questo caso di una 0-0. Anche la 0 va bene, si può panificare e fare pizze con tutte le farine, dipende poi da altri fattori, ma qui stiamo andando sul semplice. Il mio consiglio è farina 0-0 o 0. Che cosa vuol dire? La 0-0 è la più raffinata di tutte, la più macinata sottile di tutte. Eh, giusto riassumendo. La 0 un pochettino meno, un pochettino meno raffinata, un pochettinino più magari grossolana la farina, proprio un pochettino. E poi si va a salire. Però la cosa importante che dovete guardare quando volete prendere una farina che dovete utilizzare per fare la pizza è appunto la percentuale di proteine. La trovate sempre, mentre ci sono altri valori, tipo il W, che non sto qui a, diciamo, sviscerare perché ci sono poi mille altri video che vanno veramente nel dettaglio su tutti i parametri. Però anche questi valori a volte non sono scritti sui pacchi delle farine, mentre la percentuale di carboidrati, proteine, grassi, eccetera, eccetera, quello invece c'è sempre scritto una farina da pizza, il mio consiglio è 11,5-12-13 grammi, diciamo, quindi in questo intorno. Perché se prendete una farina con troppa poca percentuale di proteine, quindi magari 8 grammi di proteine su 100, ecco, il glutine che si svilupperà sarà troppo poco, vi risulterà difficile lavorare l'impasto e, insomma, non è una cosa facile da utilizzare e quindi io, soprattutto se siete all'inizio, ve lo sconsiglio. Le farine che hanno pochi grammi di proteine di solito si usano per fare la pasta fresca oppure i dolci, ma questi sono altri argomenti. Quindi il mio consiglio è da 11,5 a 13 grammi di proteine sono farine che sono perfette per fare la pizza e veramente andate al supermercato, guardate, quando ne trovate una che sta in questo intorno, prendete quella e potete andare veramente tranquilli. A questo punto vi siete portati a casa la farina e vi starete chiedendo, sì, ho capito, ma io adesso l'impasto come lo faccio e devo cercarmi una ricetta. Allora, ricette ce ne sono mille e mila, la ricetta è composta da due parti principali, ovvero gli ingredienti e poi il procedimento. In questo caso parliamo solo di ingredienti, perché di procedimenti ne parleremo nei video successivi e nella mia piccolissima esperienza ho trovato un po' che anche il procedimento varia in base al tipo di prodotto e al tipo anche di forno con cui lo cuocio. Quindi se devo fare una pizza per questo forno farò un tipo di procedimento, un tipo di ricetta un pochettino diverso da questa, oppure se faccio una teglia sarà ancora diverso, man mano li vedremo. Però la cosa fondamentale è che per sapere quanta farina, quanta acqua, quanto sale, quanto lievito devo mettere dentro, invece di affidarmi a questa persona ha detto questo, questa persona ha detto questo, ci sono delle applicazioni molto interessanti che si chiamano banalmente calcola pizza, che vi danno tutte le risposte. Io ne uso uno in particolare che è secondo me il più semplice di tutti, che è quello realizzato dalla confraternita della pizza, che tra l'altro ha anche una sorta di ufficialità. Se quindi vi interessa il mondo della pizza napoletana o comunque col calcola pizza della confraternita si può anche preparare la pizza in teglia, io ve lo consiglio perché è il più semplice di tutti. In tutto questo periodo non mi ha mai, per così dire, lasciato a piedi, quindi è veramente consigliato. Non è per forza il migliore, ce ne sono di più complessi, però in questo caso voglio restare appunto sul semplice. Il calcolatore io ve lo lascio qui sotto in descrizione e adesso mi ci metto qui di fianco e lo andiamo a vedere nel dettaglio perché vedendo le singole componenti di una ricetta di un impasto per pizza, capiamo anche cosa c'è e cosa dobbiamo fare. Innanzitutto partiamo dalla prima riga, numero di panielli. Cos'è un paniello? È la palletta banalmente di impasto che poi stendiamo e diventa una pizza. Ovviamente qui potete mettere quante pizze dovete fare, se dovete fare una pizza in teglia è la stessa cosa e banalmente sarà un panellone molto grosso invece che tanti piccoli, ma sarà la stessa cosa. Il peso dei panielli è molto importante perché varia in base al forno che è stato utilizzando. Per un forno del genere che è piccoletto io sto sempre sui 210-220 grammi a paniello. È più piccolo di un paniello classico da pizza napoletana che di solito sta sui 280 grammi, ma in questo forno non vi potete spingere a 280 grammi. Verrebbe troppo grande, non si cuocerebbe qui la parte attorno, è un casino. 210-220 grammi sta benissimo. In questo forno invece è un pochettino più grande, io vi consiglio 230-240 grammi per questo fornetto qua. Mentre invece per le teglie c'è un calcolo che si fa, è molto semplice. Per una teglia per esempio 30x40 cm la misurate, si calcola l'area, quindi 30x40 fa 1200, si divide per 2, fa 600 e quindi 600 grammi. Quindi moltiplicate, è base per altezza della vostra teglia, diviso 2, molto facile. E poi ovviamente se la volete fare un pochettino più sottile potete togliere 50 grammi, se la volete un pochettino più focacciosa mettete in altri 50 grammi in più. Non è per forza così tassativo. Potete stare tranquilli, potete sperimentare, l'importante ovviamente è stare in un certo intorno, no? Dopodiché passiamo a parlare di una cosa importantissima, ovvero l'idratazione. Che cos'è l'idratazione e come di solito viene espressa? Se magari avete sentito dire, oh l'idratazione è il 65%, al 70%, all'80%, ecco ma che cos'è? L'idratazione è il rapporto percentuale tra il peso di acqua e il peso di farina. È un po' un casino detta così, ma in realtà è molto semplice. Per esempio, se voi volete fare un impasto all'80%, non lo volete fare perché siamo principianti, l'80% è un po' un casino e adesso spiego le varie differenze. Però l'80% è facile per fare un calcolo. Prendendo ad esempio 1000 grammi di farina, quant'è l'80%? 800 grammi. Quindi 1000 grammi di farina, 800 grammi di acqua corrisponde ad un'idratazione dell'80%. Vogliamo fare un 60%? Benissimo, 1000 grammi di farina, il 60% quanto fa? 600, saranno 600 grammi di acqua. Quindi appunto il calcolo dell'idratazione in realtà è molto semplice, però dobbiamo saper decidere quale idratazione scegliere per il tipo di pizza e il tipo di impasto e la nostra manualità. Perché dico questo? Perché un impasto a bassa idratazione, prendiamo per esempio 55-60%, sarà piuttosto compatto e piuttosto facile da lavorare perché non sarà molto appiccicoso. Invece al salire e basta poco perché uno dice vabbè allora faccio 70%, vabbè più o meno è uguale. No, in realtà basta poco e fa veramente la differenza. In questo caso è abbastanza importante essere precisi con la quantità di acqua che si mette dentro. Perché basta sbagliare mentre versiamo un po' di più, non sembra ma fa la differenza. Quindi dicevo un impasto al 70% è già un pochettino più morbido, più molliccio, più appiccicoso e diventa un pochettino più complicato da lavorare. Soprattutto se siamo all'inizio, un impasto all'80%, ragazzi qui stiamo diventando abbastanza, stiamo andando abbastanza sul complicato, abbastanza sull'avanzato. Probabilmente le prime volte che fate un impasto non fate, non spingetevi. So che è bello dire sono riuscito a chiudere un impasto all'80%, però all'inizio rischiate moltissimo di incasinarvi. Partite un pochettino più dal basso e poi andiamo a salire. C'è poi un'altra componente che dobbiamo tenere in considerazione quando andiamo a decidere l'idratazione di un impasto che vogliamo preparare. Questo forno arriva magari a 400 gradi, questo arriva quasi a 500, il forno di casa a 250. Quindi che cosa vuol dire? Che i tempi di cottura saranno molto diversi e come influiscono i tempi di cottura e la temperatura sull'idratazione. Voi direte ma che c'entra? C'entra molto perché un impasto molto idratato, quindi con una percentuale di acqua molto elevata, è in grado meglio di reggere tempi di cottura più lunghi. Per cui se una pizza in teglia la cuocete per 15 minuti, ci sarà molta acqua che si trasformerà in vapore e andrà via dall'impasto, ma la pizza resterà ancora morbida perché ha un'idratazione elevata. Se invece fate un impasto a bassa idratazione, poniamo a caso un 60% nella teglia nel forno di casa, la cuocete 15 minuti e magari vi resta tutta dura e scrocchiarella che ci sta. Magari è il risultato che volete, però appunto è importante saperne la differenza. Per la pizza napoletana fatta in questi due forni qua, diciamo che possiamo stare tra un 60% e un 70%. Il mio preferito è quello che faccio sempre ultimamente, non cambio mai, lo provate un po' tutte, sia di più che di meno, però io faccio sempre idratazione al 70%. E voi mi direte, sì ma per entrambi questi forni la stessa idratazione? Allora sì, vi dico perché. Perché questo fornetto qua non ce la fa a cuocere tanto velocemente la pizza, ci mette un pochettino di più, tende un pochettino a bruciarla sotto. Quindi cosa succede? Che se abbiamo un pochettino più di idratazione, ci dà un pochettino più di margine di manovra e non ci fa venire la pizza troppo biscottata. Se la state preparando con questa e vi viene un po' troppo biscottata sotto, vuol dire un pochettino dura sotto, magari potete provare a aumentare un pochettino l'idratazione. Su questo fornetto invece si cuoce più rapidamente, ma la temperatura è più violenta, quindi fa comunque evaporare un bel po' di acqua all'interno, però resterà molto molto morbido. Quindi a me questa morbidezza dell'impasto finale a me piace, per cui a me piace avere 70%. In teglia invece mi spingo più su all'80%. Però di nuovo voglio sottolineare che se state iniziando e magari non avete attrezzatura, ma volete cominciare ad impastare a mano, secondo me iniziate dal 60%, 62% magari, poi 65% ci prendete un pochettino la mano, vedete un po', poi farò dei video più nel dettaglio su singoli forni con differenti impasti e vedremo anche come si comportano, magari con qualche minimo trucchetto, vediamo, vediamo se riesco a organizzare questi video che non sono così semplici come sempre da registrare. Mamma mia, farina e idratazione sono le due cose più difficili, forse in assoluto, non so se le ho spiegate benissimo, cerco di darvi qualche indicazione facile, se non sono stato chiarissimo, mi raccomando, mi lasciate un commento qui sotto, ne parliamo, cerco di spiegarvi di nuovo. Questi sono spunti, ci sono molti altri video di professionisti, gente che ne sa centomila volte più di me, che potete utilizzare per andare ad approfondire. Dopodiché per parlare di ricette, il più è fatto, è quasi quasi il più è fatto, passiamo alla riga successiva che è il sale, sale per litro d'acqua, qui l'indicazione standard è su 50 grammi di sale per ogni litro d'acqua, per me, per il mio gusto personale è troppo, io uso 40, potrei anche spingermi un pochettino a 35, però 40 secondo me va bene. Dopo il sale vediamo che abbiamo due righe che parlano di orie di lievitazione totali e ore in frigorifero, il mio consiglio non abbiate fretta, non vuol dire fare lievitazioni, maturazioni di 2-3 giorni, che possono essere più complicate perché vanno a stressare un po' la farina, insomma, ovviamente sono lavorazioni più complesse che vogliono dire che serve un pochettino più di manualità, un pochettino più esperienza, però non siate quelli che vogliono fare la pizza in 3 ore e quindi ci buttano dentro un chilo di lievito che tra l'altro non c'è più, scalseggia, quindi per fare gli impasti ci vuole pazienza. Secondo me il dolce punto, il giusto equilibrio sta in circa tra 24 e 30 ore. Io di solito comincio a preparare i miei impasti dopo pranzo, di una giornata qualunque, che ne so, il venerdì pomeriggio dopo pranzo preparo l'impasto per la sera dopo, per la cena successiva, quindi diciamo un pochettino più di 24 ore, circa 30 ore in totale, 98-30 ore. Questo tempo, secondo me, il valore è perfetto per un ambiente casalingo, per avere il miglior tipo di impasto e di gusto possibile. Infatti 24 ore già permettono all'impasto di lievitare nella maniera più corretta possibile e anche di maturare, quindi diciamo gli enzimi lieviti all'interno dell'impasto lavorano, mangiucchiano, lasciano la loro anidride carbonica e l'impasto assume un gusto buono. Ovviamente tempi di maturazione più lunghi potrebbero dare gusto più particolare, l'utilizzo di lieviti madre, piuttosto che potrebbe dare il gusto più particolare, ma sono lavorazioni di nuovo più avanzate. Un ottimo, però veramente ottimo, non vi deluderà, anzi sarete contentissimi. Infatti un impasto 24 ore sarete contentissimi. Tra l'altro, con un tempo di lievitazione così, potete, ma poi lo vedremo assieme, utilizzare una quantità di lievito talmente bassa, che vi permetterà anche di un panetto di utilizzarlo un sacco di volte. Però, e qui ci colleghiamo alla riga successiva, potrebbe essere importante fare alcune di queste 24 ore in frigorifero, perché durante la fase di lievitazione di un impasto, il lievito all'interno dell'impasto mangia tutto quello che trova, normalmente mangia gli zuccheri, crea nitride carbonica, ma se mangia troppo, o se c'è un pochettino troppo lievito, o se lo facciamo lieviterre troppo, poi l'impasto praticamente perderà di forza, si sgretolerà sotto le nostre mani e non saremo più in grado di lavorarlo. Quindi dobbiamo stare un pochettino attenti. Il mio consiglio per una preparazione normale, 24-30 ore, con una farina normale di cui non conoscete tutte le caratteristiche, è lo preparate, lo lasciate riposare due ore, poi lo mettete in frigo, e lo lasciate stare lì fino a 5 ore prima poi di infornarlo. Quindi nel calcolare quante ore di frigorifero si deve fare, fate per esempio 24-7 che fa 17 e lo mettete così. L'ultima variabile da tenere in considerazione è la temperatura ambiente. Per temperatura ambiente si intende la temperatura del forno spento, dove ci mettete l'impasto appunto a riposare. Il mio consiglio è state tra i 20 e i 23 gradi più o meno, perché se fa troppo caldo, poi rischiate che cominciate a cuocere l'impasto, ma anche se di gradi ce ne sono già 26, così è già troppo. I lieviti comincerebbero a lavorare tanto, in maniera diciamo troppo elevata, e non va bene. D'altra parte poi se fa troppo freddo, no, praticamente diventa come un frigo. Quindi il punto più o meno giusto è tra i 20 e i 22, 23, 24 gradi. Misuratela magari se riuscite prima con un termometro, di modo che gliela mettete nel calcolapasta, perché questa temperatura andrà poi a influire sulla quantità di lievito poi da mettere nell'impasto. Le due righe successive, olio e pasta di riporto, saltatele, per me non state lì a mettere olio, non state lì a preoccuparvi di che cos'è la pasta di riporto, per questi tipi di impasto potete fare tranquillamente senza. Dopodiché troviamo questa checkbox molto importante, pizza in teglia si no. Se fate una pizza in teglia ci cliccate sopra, se non fate una pizza in teglia, la fate una napoletana, la lasciate perdere. Ed ecco che siamo arrivati finalmente al vedere i risultati di questa nostra ricetta. Vediamo quanta farina dobbiamo mettere, quant'acqua dobbiamo mettere, quanto sale, quanto olio eccetera eccetera e quanto lievito di birra fresco. Innanzitutto potrete notare che la quantità riportata qui dal calcolapizza è bassissima, 0,2 grammi. Allora è vero che secondo me il calcolapizza è un po' diciamo un po' braccino colto con il lievito. Potete, io di solito ne metto un pochettino di più, ma a me piace lievemente più gonfio l'impasto, no? Per cui se invece di 0,2 ne mettete 0,3, 0,4 andate tranquilli. Certo vi serve una bilancia di quello un pochettino di precisione. È anche vero che quest'impasto qui calcolato è per una pizza sola, non farete mai un impasto per una pizza sola. Quindi lievito sarà di più, ma è giusto, è giusto che sia così poco. Se non riuscite a trovare il lievito di birra fresco, quello nei panetti classici del supermercato, perché adesso il periodo è un po' così, sappiate che il lievito secco si calcola con una proporzione 1 a 3. Quindi vuol dire che se avete per esempio un grammo di lievito di birra, qui calcolato nella ricetta, dovete dividere per 3 e quello sarà il valore del lievito secco, quindi invece che un grammo 0,3. Sicuramente a questo punto vi starete chiedendo, sì ma com'è possibile 0,2 grammi che sul panetto c'è scritto questo panetto vale per 500 grammi di farina, è impossibile. È vero, ma tutto fa temperatura e tempo, ovvero è chiaro che se dovete far lievitare un impasto in due ore vi servirà a mettere molto più lievito, ma contemporaneamente quest'impasto lievitato in due ore è troppo poco. Fidatevi, fatelo lievitare 24 ore, lui avrà il tempo, anche pochissimo lievito così, di fare un ottimo prodotto, quel prodotto che avete in mente. Se volete fare il cornicione alto potrete avere il cornicione alto, non c'è problema, non serve mettere più lievito. Basta che l'impasto abbia il tempo giusto per fare il suo lavoro. Quindi a questo punto diciamo abbiamo finito, saremo molto confusi, ci sono tante cose in gioco, magari potete qualche cosa riascoltarla per altri dubbi, come al solito ne parliamo qui sotto, lo vedremo poi in altri video, so che è un po' un casino, ma queste mi sembravano le componenti fondamentali, le colonne che è necessario purtroppo conoscere quando ci si affaccia a questo mondo. Però voglio farvi degli esempi pratici, so che questo video diventerà lunghissimo, ma secondo me è importante. Facciamo ad esempio, vogliamo preparare 4 pizze da 220 grammi, perché le facciamo magari per questo fornetto. A questo punto siamo veramente all'inizio, vogliamo lavorarlo a mano, non sappiamo come fare, è la prima esperienza, vogliamo fare un 60% di idratazione, così siamo tranquilli. Benissimo, mettiamo 60% qui, mettiamo sale per litro, come vi dicevo prima, 40, e poi io appunto metterei un 28 ore di lievitazione totale, di cui 17 in frigorifero, temperatura ambiente magari 21 gradi, anche perché ci si va verso l'estate. Andiamo quindi ai risultati e molto semplicemente troviamo la nostra bella ricetta pronta qui sotto, da seguire in maniera molto semplice. Ma bene, dobbiamo invece fare, invece che 220, 240 grammi, perché lo facciamo con questo forno. Benissimo, noi cambiamo il valore qui, vogliamo spingerci al 65% perché l'abbiamo già fatto una volta, sappiamo com'è il 60, quindi vogliamo farlo una volta in più e vedere, spingerci un pochettino oltre. Mettiamo 65, andiamo al fondo ed ecco tutte le quantità ricalcolate. Vedete che il lievito anche cambia sempre, o in questo caso 0,57, di nuovo 0,57 è troppo poco, magari non siete sicuri, piuttosto che metterne magari di meno della quantità prevista, ne mettete un pochettino di più. Se fate 0,7 va bene lo stesso secondo me, e ora verrò linciato. Abbiamo già preso una bella mano e vogliamo fare un 70%, magari abbiamo una planetaria che ci aiuta, una cosa così, ci spingiamo, scriviamo 70, track, e qui automaticamente lui ricalcola tutto e non abbiamo zero problemi, non è che ci dobbiamo segnare su un foglietto la ricetta che ci ha dato, fa tutto lui, automatico, non ci dobbiamo preoccupare di niente, seguiamo e siamo tranquilli. Se poi facciamo una pizza in teglia, magari facciamo un paniello, a me piace farli da 650 grammi per la mia teglia 30x40, come vi dicevo prima lo standard sarebbe 600 grammi, però a me piace un pochettino più focacciosa, in questo caso magari siamo proprio esagerati e poi lo vedremo assieme, in realtà è anche abbastanza facile fare un 80%, ma all'inizio spaventoso, non vi preoccupate, però giusto per fare l'esempio, 80%, stessa tipo di lievitazione, clicchiamo il tastino pizza in teglia ed eccoci qua tutti i nostri valori, tutto bello già pronto per noi, già bello fatto. Per cui ragazzi, allora adesso il calcolo l'abbiamo fatto. Per capire il procedimento, secondo me già un'idea, ce l'avete se siete capitati qua, ovviamente però siccome i procedimenti sono tanti e i tipi di prodotto possono essere diversi, so già che vorrò fare magari un impasto totalmente a mano per napoletana, magari prima per questo fornetto, poi in una maniera un pochettino diversa per questo e poi magari spingerci a fare anche un impasto col bimbi che io ho, invece in realtà non ho un'impastatrice, magari per la pizza in teglia, vedere le differenze, però ognuno sarà un video differente perché è un pochettino lungo far vedere i vari passaggi, no? Detto questo se siete arrivati fin qua, dovete mandarmi l'indirizzo, vi devo mandare una cartolina perché siete stati mitici, lo so, vi avrò riempito la testa di cose, volevo farlo il più facile possibile questo video, mi sa che è venuto un casino, non lo so, me ne accorgerò in fase di editing, però di nuovo se abbiamo domande di cui discutere ne parliamo qui sotto, se volete potete iscrivervi al canale, così vedrete l'evolversi di questa serie, quindi non ci resta che iniziare a sperimentare con gli impasti, preparare delle pizze, alla fine è un gioco, ci si diverte, si fanno degli esperimenti, se avete dei bambini è bello fare queste cose anche con loro sicuramente, ma per quel che riguarda noi ci vediamo presto sempre qua sul canale per un nuovo video, ciao a tutti!